ciao a tutti ben trovati in un nuovo video di South Park il bastone della verità PS3 diciamo che dopo la venuta sulla terra degli alieni South Park e le cose stanno via via peggiorando quindi diciamo che questa parte qui è bloccata vedete e non si può andare allora giusto per avere chiara una cosa qua andiamo a vedere le guest ottieni un nuovo alleato recluta i dark vai a scuola e parla con i dark e poi abbiamo queste sottomissioni ora andiamo a fare questa che è la principale almeno in video poi vedrò io insomma cosa fare ecco dobbiamo andare a scuola quindi a reclutare quel babbeo vediamo questi e poi bisogna andare a eliminare in verità io vorrei evitare gli scontri perché mi sono abbastanza stufato di tutti quegli scontri con quegli elfi maledetti ho ancora da trovare una bandierina anche questi sono oggetti da prendere ma non so ancora come fare ovviamente avrò bisogno di una trasformazione se andiamo direttamente dall'idiota vediamo un po' se riusciamo a fargliela smettere di inviarci perfetto perfetto e noi dobbiamo combattere ma noi dobbiamo combattere ecco ero ultra sicuro ecco ecco che ragazzi sono tu? beh il nuovo figlio ha ora vediamo come ti piace sentire una tutta presentazione su un'alimentazione globale si orca miseria su un cazzo ci ha fatto dormire non puoi escapare la sicurezza del cambio climatico globale nostro compagno poi tra l'altro io si da una bella incornata così da piante subito di fare fenomeno oh bam bam ma sono cazzo eccoci voi sapete qual è la cosa bella? la cosa bella è che io non posso evocare bene che cacchio ora c'è male 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 D'arrivo? è andato male questo pacco, porca cos'è, si stanno facendo neri e come vedete io non posso rigenerare mana e' un cacchio cosa c'è, voglio dire, no? vabbè andiamo meglio che ti curi, va la ragazzo e guardate che sono veramente tosti questi perfetto direi che è andato benissimo il combattimento mi hanno fatto non nero di più la cosa che non riesco a capire perché non mi fa evocare così è giusto per avere un'idea a te sto scemo qua cosa fa oltre cerchiamo un filmato è un buon giorno di morire per te ora vediamo ora vediamo come si può saltare che l'hanno già visto ma questo fa parte del gioco non si può evitare non si può evitare la sicurezza del cambiamento globale e adesso ti do una bella incornata così ti passa la malinconia sì non 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 Allora, vediamo un po' Si serve Allora, vediamo un po' Allora, vediamo un po' Andiamo a risuscitare il morto qui Cazzo, ma porca dico la mignota E ora, vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa E direi che ci hanno fatto Secchi per la seconda volta Quindi Che si fa? A questo punto Torniamo più tardi Forse non abbiamo abbastanza Questa energia necessaria Per affrontare Al Gore No, mi sembra che ci fosse un ripetitore Ma non c'è Vabbè, andiamo Quindi non abbiamo ancora Secondo me La forza necessaria Per No, ancora Combattimenti Che due palle La forza necessaria La forza necessaria La forza necessaria La forza necessaria In la forza E' un po' Scusa proviamo questa pistola laser giusto per aumentare un po' il livello ma probabilmente dovremmo fare qualcos'altro per andare dalla gola per adesso mana non è sufficiente ok vediamo un po' se riusciamo a stordire stupe in bambi no 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 ora lo incornerò per bene vediamo che serve direi che abbiamo archiviato anche questo combattimento inutile che Sì, non lo so. Mi be, ok. questi punti io non si può fare niente oppala quindi ho scoperto diciamo così che si possono bene direi praticamente allontanare i topi guardate che bello è ma ancora anche qua cazzo anche qui non sapevo anche questi combattimenti qua male 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 l'incornata qui dell'amico patetici questi combattimenti veramente patetici io li trovo patetici no 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 andiamo a fare una sporeggia sul gruppo direi che te la sei passata mica tanto bene eh carlo mi è andata una perrucata no 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 Oh Un altro poi dormono anche questi simpatici cucciolotti Perfetto Allora uno dormiva qua, uno qui Perfetto Ci stiamo andando ad avventurare non so dove E' ancora combattimento Ma che palle però Vediamo questo nuovo amico dell'evocazione Quindi questo non lo possiamo più evocare E' barboso sto pezzo qua Si sta scoprendo Magari una parte Del gioco Sperando di non contare altri cani Perché francamente E' pieno di cani Usciamo da questo bosco inutile Che mi fa Veramente mi malinconire Eh ma porca di quella puttana Ancora un altro combattimento Cazzo Ma si buttiamogli una crocchetta di merda in testa Sperando di merda in testa Sperando di merda in testa Sperando di chi E' ritirata? Ancora no? Adesso ti sistemo un po' per le feste con un'invornata B Qu'est-ce que tu stai?" Oh Non possiamo uscire da sto maledetto bosco oppure no non se ne può più Porca miseria che palle Usciamo, 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 usciamo Qui dovremmo teoricamente fare il Se questo e non riusciamo a fare il pezzo siamo rovinati Vedete da qua non si, se non riesco a fare... Vedete da qua? Vedete da qua? Vedete da qua? Vedete da qua? Vedete da qua come si riesco a fare? Vedete da qua? Vedete, vedete qui Vedete da qua Vedete da qua! Vedete da qua? Vedete... Vedete qui Oh, what was that for?